ciao ragazzi siamo tornati su all on up la quinta pa oggi finiremo di scorare i sentieri dimenti cazzi nella scorsa parte abbiamo scorato il primo spirito vendicativo tipo una figa ok perfetto scorriamo acqua su non ci si poteva andare dobbiamo andare di qua qua odie o canne e fa muori i li odie tu tana ok proseguire no i possiamo una figa con una fessura sembra una zia ma donna zoza cos'è quella figa ma ma sei una puta verde figa cazzi penso di concludere qua scopriamo come andare avanti nel prossimo episodio perché non ci basta il sas forse dobbiamo esplorare la zozo ai sentieri dimenti cazzi vabbè vedremo ragazzi io vi saluto ci vediamo ad un prossimo episodio ciao ciao ciao